Questo dipinto si intitola Barche sulla spiaggia di Les Saint-Marie ed è realizzato da Vincent van Gogh nel 1888. Oggi è conservato in un museo in Russia a San Pietroburgo. Van Gogh dipinge questo quadro con gli acquerelli, dei colori particolari che vengono sciolti con l'acqua e quando si asciugano danno un effetto molto sfumato, come puoi vedere nel blu del cielo di questo dipinto. Gli acquerelli si asciugano molto in fretta e si trasportano facilmente, per cui vengono usati dai pittori che dipingono durante i viaggi e all'aria aperta. Van Gogh in effetti ama dipingere all'aria aperta, catturare la luce e rappresentare la realtà come la percepisce nel momento in cui la dipinge. In questo quadro due sono i colori dominanti, il blu intenso del cielo, un cielo senza nuvole e terso che si specchia in un mare cristallino e il giallo della sabbia della spiaggia, dove sono arenate quattro barche coloratissime. L'assenza di persone non intristisce il panorama, anzi, la presenza dell'uomo c'è ed è testimoniata dalle barche dei pescatori dai colori vivacissimi che si immergono ogni giorno nel blu delle acque, creando un caleidoscopio di colori, una danza tra le onde del mare, illuminato dal sole, che come un riflettore rischiara il paesaggio di una luce calda, tipicamente estiva. Pensaci, il colore della sabbia è talmente caldo che sembra bollente. Non capita anche a te, quando sei in spiaggia, di scottarti le piante dei piedi al contatto con la sabbia resa rovente da un sole che in estate è rovente?